si si bambaù c'è il cazzo bambini ha fatiito la gente si 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 di coglioni nonuerò Ma come stai a f***lo? Dove? A f***lo Ma buongiorno Eh quanto sei bello? Sono il dono con questo affare che mi ha spavolato Ma le chiavi del coso le hai messe? Eh? Le chiavi dell'aliscafo Ma va a f***lo Ma perchè sei sempre a f***lo da me? Si 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 è venerdì Ah che sega Il pennellino ti fa il pennello Buttati! Dove andai? Dove andai? Si è venerdì Oggi è una giornata Speciale come ogni venerdì Per oggi ancora di più perchè Si intravedeva qualcosa nelle storie di ieri Chi sarà? Chi non sarà? Chi sarà? Chi non sarà? E' giunto il momento che Aspettavamo un po' tutti anch'io in primis Ebbene si vi presento Sto cazzo! Ma qui! Oh! Oh! E' tornato lo stronzo Perchè? Come perchè? Che ha da essere? Chi è? E' uno stronzo Chi? Uno stronzo Chi? Uno stronzo Ma perchè non va bene? Fermi qua! Più un quadro di qua? No! Manna chiudi là! Su? Ah! Che seppia! Oh! Te tiro! Come ora fa? Vabbè non è più di lì! Ma verso... Allora che cazzo ho perso! Ma verso nord-est o ove? Ah! Lo sto fermando! Ma l'equatore... L'equatore... L'equatore dove è andata? Manna chiudi! Manna chiudi! Dove è andata l'equatore? Niente! L'attore la tira qua e tu! La metto di qua! Fermi! Basta! L'accelo! Comunque è una tovaglia del cazzo! No! È una tovaglia del cactus eh! Allora Andoneve! Come lo ora mette? Così? Le lascia fà! E noi abbiamo un aggetto ai tovaglioli vero? È vero o no? Balla! Se non caccio non dico io! Balla! E' molto geloso del suo tovagliolo! Perché li piega tutti precisi... Precisi, precisi! Se tu gli fai un po' così... Vedete come reagisce? Sarrabbia dai calci! Questa è la reazione del piegatore dei tovaglioli! Voi dovete... Ma io... Lo presto per me! Tornata mio cane! No! A me! Ha detto c'è il pane! Fa! 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 Fa questo! Mi cerco... Ma in particolare che? Ma non ha le carte! No! Nonno! Solo tu mangi la pasta col burro eh! O no! Fa! 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 Ho! Fa! Fa! miten ha nevicato! Fa più! Fa! Fa! ma è un bel o no? eh? è un bel come è un bel? che è un bel? da retta oh è un bel è un bel no no guardamoli insieme per mano no le minacce no le guardiamo per mano dai che non le vuoi vedere? le guardiamo per mano c'è il giornale numero ma fai vedere quello? ma le guardiamo per mano no 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 dove è? gli alpeggi nonno che portano sugli alpeggi le peccoli che? le peccoli non ho capito ma no ma sicché ti piacciono le fave? no da me piace la figa l'anziano saggio come Achille e lauro ma non è vero come non è vero? vuoi la vedere? è bella questa ma te ne compro un paio anche da te si ma il lamento te ne compro? tocca il lamento al bene no questa ti piace di più? di la verità? si si questa è proprio quella d'Achille e lauro eh? malandrino vuoi venire sul cross? si molto dietro esatto quando ti vestiti da cross ma ti porta sui kart ah tu sei vestiti da cross che mi hai detto? andiamo sul cross io non so molto vestiti da cross tu manco la kart secondo me infatti è strano senza fare l'aperitivo io vestito così e lei tutta verde ha Chiara Carli eh? sembri macaron il macaron una cosa che a me mi ha sempre un po' contraddistinto è il fatto che se devo andare a fare un aperitivo così ci vado non è un problema tanto raga ricordatevi una cosa che chi va a prezza per quello che siete va a prezza sempre quindi se avete il vestito firmato o se siete insomma con un orologio bello è uguale quindi questo è importantissimo non apparire poi dopo non conta più un cazzo datemi retto FAAA 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 mi sembra un po' ingiusto beh no vabbè che tu qua non la finisci più mi vedi adesso per la prima volta dove sei super felice a fare un sorriso così dì ma perché non te sciap dico io fa un sorriso così dai uno solo uno solo poco via te lo giuro fa un sorriso così iiii ma mi devi senti ma fallo meglio ma chi ci guarda dopo non ci guardano no no fallo meglio fa fa vedere così sorriso meglio no no non ne scasa a sto ora a sto ora non si scasa perchè non c'è fa un sorrisettino dai o no oh fa un sorriso è sciatto di coglione oh anche te lo fa un sorriso no se ve lo fa un sorriso pensa tu pensa subito male quando ne volevo maniere un sacco di coglione ma perchè nel mano perchè ne vuoi perchè ma io ma che vorresti mangiare niente che vuoi mangiare oh ma la parola se no me ne vuoi gli hanno fatto un cazzo ma le minacce no le minacce no ma il tempo sono arrivati dei pacchi da gubbio guardate che bello bellissima lettera grazie mille santubaldo eccolo qua e in più una bellissima catenina sta pieno da chiara oh con questi piedi ti vorrei levati i piedi loro la mette sta come i cristiani come ora sta aia 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 chiapa chiapa oh sto da un cazzotto a te dentro ma perchè ah è questo da chi chiapa chi è o no chi è lu nonno chi è chi è o no aia aia no aia 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 paia Ma da chi? Eh, da chi? Da cazzo. Fa piano. Quindi buonanotte. Volevo ringraziare per tutti i bellissimi messaggi che mi mandate. Non è mai scontato, non è mai ripetitivo perché per me siete veramente importanti. Ora vado a dormire. Stavo pensando a cosa che oggi era, sì sì sì, venerdì. Era un venerdì speciale. E meno sette all'uscita. Ma non vedo l'ora ragazzi. Proprio. Basta, posso dire più niente, non posso dire. Sennò dopo me ne hanno il cicchetto, parli troppo. Va boh, basta. Notte, 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 notte. A domani. Grazie mille, devo essere storie.